Leak, Tengoku, Daimakyo, Heavenly Delusion, avrà una seconda stagione secondo un certo leaker di nome Oikuf, che sarebbe sempre su Goi, vabbè fanno sempre parte della stessa combriccola, e sì, teoricamente c'è un piccolo problema in merito a quanti capitoli adatterà questa eventuale seconda stagione, però posso dirvi che teoricamente da quello che mi è stato detto non dovremmo essere messi troppo male. Cioè, a differenza di Made in Abyss, dove effettivamente non ci sono volumi, mi pare che Made in Abyss la seconda stagione è finita, che ci sta un solo volume, forse massimo due volumi del manga, nel caso di Heavenly Delusion, qualora venisse annunciata la seconda stagione, attualmente, in teoria, vi leggo quello che ha scritto questo ragazzo, siamo al volume 5 nell'anime, e mi pare che in Giappone sono al volume 9, che sta per uscire, mentre qua è uscito due settimane fa il volume 8 in Italia. Quindi l'autore è lento, ma fa uscire quasi due volumi all'anno, quindi già da metà dell'anno prossimo dovrebbe avere materiale per una seconda stagione, e se l'hanno già annunciata e ci si mettono sotto, potremmo vederla per fine 2024 o verso 2025. Secondo me pure 2024 è probabile, fine 2024. Tenendo conto che lo studio di animazione fa quasi solo un anime all'anno, se si mette sotto potrebbe farcela. Quindi io direi che pensavo molto peggio, pensavo molto peggio a livello di capitoli del manga, poi ripeto, ne parleremo meglio quando uscirà la stagione appunto di Heavenly Delusion, cioè quando finirà Heavenly Delusion e l'annunceranno ufficialmente, perché per adesso non è un annuncio ufficiale, però in teoria per ora dovremmo essere arrivati al volume 5. E ci stanno il volume 6, il volume 7 e il volume 8, quindi io credo che di materiale ce ne siamo, non dico ovviamente nel 2023, però tra un anno magari potrebbe uscire. A Medinabis ci sono tre capitoli, altro che uno due volumi. Ah, ecco, capito, capito, Medinabis, cioè capito, a Medinabis hanno annunciato la terza stagione che ci sono pochi capitoli, neanche un volume. Mentre nel caso di Heavenly Delusion si annunceranno la seconda stagione, almeno tre volumi ci stanno. Quindi dovremmo stare abbastanza in banca. La prima stagione ha adattato 36-37 capitoli, al momento il manga ha 55 capitoli, il manga che ha già tutta la storia scritta fino alla fine deve solo disegnarla. Ok, quindi sì, se appunto la prima stagione adatta 36 capitoli, per arrivare al settantesimo capitolo, che sarebbe quello che sancisce appunto la seconda stagione, non dovrebbe volerci troppo un altro anno, però comunque appunto secondo me 2024, massimo 2025, come ha detto quel ragazzo, ce l'avremo. Mentre Medinabis è un altro paio di maniche, cioè Medinabis hanno annunciato sta terza stagione considerando che non c'è un cazzo di materiale, e quindi boh, nel senso... Non lo so che cazzo faranno se la inventano, proprio la fanno disegnare all'intelligenza artificiale la terza stagione, perché non c'è un cazzo. Quindi boh, staremo a vedere, staremo a vedere.